Non si può reagire alla violenza con la violenza, Norio È giusto prevenire altra sofferenza Se li uccidi, altri torneranno a vendicarsi L'armatura come vi sta, signore? Ve ne serve dell'altro per apportare le migliorie Grazie Lorsakai! Ci sono problemi? I mongoli si radunano, sono pronti a colpire Dovremmo fuggire al castello di Kaneda Se fuggite, i mongoli vi daranno la caccia Nessuno arriverebbe vivo tra le mura di Kaneda Almeno non ci macchieremmo di sangue Di a tutti il tuo piano, Hochi, e vediamo le reazioni Norio, vorrei che l'ottuplice sentiero ti importasse più dell'opinione altrui Prima segui ciò che ti dice Enjo E ora Lord Sakai Pensi mai con la tua testa Non osare nominare il nome di mio fratello Basta Io e Norio penseremo a combattere Voi potete nascondervi Non mi nasconderò Non uccido Ma non sono un codardo Esaminerò il villaggio Per vedere quali difese possiamo allestire in fretta Raduna tutti E assicurati che trovino riparo Uno di quei tetti andrà bene Gente, radunatevi tutti qui con le vostre famiglie Presto Ui, perfetto Senza mura, siamo vulnerabili su ogni lato Assicuratevi che ci siano tutti Famiglia, amici, vicini Fuggendo nell'acquitrino La gente si disperderà E saranno prede facili Fate in fretta Non allarmatevi Venite tutti qui Manca qualcuno? La gente può nascondersi al tempio Incensieri Se aggiungiamo polvere nera all'incenso Il fumo sarà così denso da offrire una buona copertura Norio e Hochi porteranno tutti al tempio Mentre io affronterò i mongoli qui Dovranno prendersela solo con me Signore, abbiamo radunato tutti Portali al tempio Non combatterete da solo Se i mongoli arrivano al tempio Chi proteggerà questa gente? Farò come dite Tieni pronto il Naginata Ti offrirò del sake per la pazienza con Hochi Gente, stanno arrivando i mongoli Seguitemi al tempio Gli invasori assaggeranno l'ira di un samurai Fate... Attenzione, vi prego Ascoltate Norio Ripariamoci tutti al tempio Presto, andate tutti al tempio Non fermatevi Capiriamoci un'EP Arğıtano! No E accomplishments Capiriamo! Bien Quasi Viste Capiriamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un granaio andrà bene. Sono qui. E ora... Vi accendere gli incensieri. Spero gradiscano il fumo. Grazie a tutti. 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 E tutti. E... sono morti. e... 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 ... e... e... ... ... e... e... ... e... ... e... e... ... ... e... 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 ... e... ... ... ... e... ... ... e... 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 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 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 ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... ...... ......... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ...... 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 ......... ............ ............ ......... ...... ......... ......... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... Gente saprà che lottiamo per loro. Il Cushidera ha resistito per ben due volte agli invasori. Saremo d'ispirazione ai templi di tutta l'isola. Che cosa farai ora? È ora di tornare al Tempio del Cedro. Ci servirà il tuo naghinata per cacciare gli invasori dal paese. È vostro. E al nord potrete contare sulla fedeltà del mio tempio. Ti rivedremo lì. Diamo un'occhiata all'interno. Il Buddha! Salvando il Tempio mio fratello ottenne il nome di Guardiano. Vorrei aver potuto salvare la statua. La morale della statua. Salva ciò che puoi, ma ricorda che tutto è effimero. Una statua rotta perde bellezza, ma infonde saggezza. Grazie. 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 Grazie.